Poi mi ha tirato l'attenzione che, mentre leggevano i lettori il brano biblico, c'era quel bambino o bambina lì che pianceva. Io vedevo la mamma che coccolava e allattava il bambino. E ho detto, così fa Dio con noi, come quella mamma, con quanta tenerezza cercava di muovere il bambino, di allattare. Sono delle immagini bellissime. E quando in Chiesa succede questo, piange un bambino, sentire quello, sentire che lì c'è la tenerezza di una mamma, come oggi, e grazie per la tua testimonianza. E c'è la tenerezza di una mamma che è il simbolo della tenerezza di Dio con noi. Mai far tacere un bambino che piange in Chiesa, mai. Perché è la voce che attira la tenerezza di Dio. Grazie per la tua testimonianza.